tenuta a costigliola è un'incantevole struttura millenaria restaurata nel 2011 immersa nel verde tra gli alberi fiori e la natura rigogliosa dei colli euganei questo angolo di paradiso vi dà il benvenuto in occasione del vostro giorno speciale e fa in modo che il vostro sogno tenuto nel cassetto per anni diventi realtà grazie agli eccellenti e ai meticolosi servizi di allestimento e decorazioni alla sensibilità con cui il team di esperti si prenderà cura di voi e dei vostri ospiti e grazie all'ottimo servizio banketing di confetti e bomboniere potrete serenamente prendervi la mano e affidarvi al team di talentuosi e capaci professionisti di tenuta costigliola che vi accompagnerà finalmente al coronamento del vostro sogno così potrete festeggiare con chi vi vuole bene con i vostri amici e i parenti amati lasciandovi andare alla gioia più pura alla leggerezza e alla spensieratezza la vostra felicità e il vostro profondo benessere sono la priorità di tenuta costigliola qui potrete godere di un buffet preparato con grande competenza e cura in ogni più piccolo dettaglio servito con maestria dal team che organizza gli eventi pronto a soddisfare ogni vostra esigenza e potrete assaporare la grande varietà di proposte che lo chef e il suo team sono in grado di realizzare gustandole nella comodità di ampi e accoglienti spazi esterni dove anche i bimbi si divertiranno giocando nell'aria che la tenuta ha realizzato per loro mentre voi osserverete incuriositi la bellezza delle tradizioni locali per poi pranzare tutti insieme dove preferite nel tempietto all'aperto nell'intimo e curatissimo ristorantino con una capienza di 35 posti a sedere nella grande sala al piano superiore ideale per i matrimoni più numerosi o in quella al piano terra decorata e arredata con eleganza e creatività gustandovi le tante delizie preparate con amore e passione dallo chef di tenuta costigliona che sapientemente coniuga innovazione e tradizione per rendere il vostro giorno davvero speciale e poi immancabile un tocco di dolcezza con i mignoni appena preparati che tanto successo riscuotono sempre tra gli ospiti per i quali a sorpresa potrete anche preparare voi stessi il dolce nuziale oppure classicamente farvelo preparare da bravissimi e fantasiosi pastri chef per poi fare festa fino a sera ballando cantando e divertendovi con i vostri cari e infine dare a chi viene da lontano la possibilità di riposare in una delle camere della location nella pace dei colli e uganei venuta costigliola vi ringrazia dell'attenzione e vi aspetta per rendere perfetto il vostro giorno speciale